È la quarta volta che io partecipo a un incontro della Candela Academy, quindi una user meeting Candela. È molto interessante perché ci si può incontrare con altri colleghi di altri paesi, anche perché con i colleghi italiani ci vediamo in Italia, però con i colleghi di altri paesi è una grande opportunità incontrarli al user meeting, ai Candela Academy, così ci si può scambiare le informazioni e quindi avere l'esperienza degli altri colleghi e confrontarla con la propria esperienza è molto importante, molto interessante e arricchisce le nostre conoscenze. Io stesso, che lavoro con i laser da più di 30 anni, quando vengo a Candela Academy imparo qualcosa, imparo cose nuove, quindi lo consiglio a tutti quanti i laseristi, in particolare ai laseristi utilizzatori Candela, a quelli che non usano i device Candela perché così vedono quello che si può fare con i laser Candela e a quelli che li usano già così possono migliorare le performance prendendo informazioni da altri colleghi che magari hanno più esperienza. Il laser a picosecondi, quando noi parliamo di tatuaggi, è stata una rivoluzione rispetto al laser a nano, perché il problema era che con la tecnologia a nanosecondi molti tatuaggi non si riuscivano a eliminare e quindi il picosecondo ha migliorato le performance, ma l'impulso molto breve del picoway le ha migliorate ulteriormente, perché quando noi andiamo a trattare questi tatuaggi qui e in particolare tatuaggi già trattati che si arriva a un certo punto che non si riesce a eliminare, oppure tatuaggi moderni che hanno questi colori pastello, tatuaggi pollocromatici con colori molto chiari, molto tenui, che hanno questi grappoli di pigmento molto piccoli. Noi abbiamo bisogno di impulsi molto brevi, quindi abbiamo bisogno di impulsi a picosecondi e non a nano e se l'impulso a picco è ancora più piccolo, ancora meglio, perché riesce a frantumare questi inchiostri, questi pigmenti che sono di per sé molto piccoli, o perché sono inchiostri pigmenti particolari, oppure perché sono stati rimpiccioliti dai trattamenti precedenti. Quindi una tecnologia a picosecondi è più performante rispetto ad una tecnologia a nano, ma una tecnologia a picosecondi con impulsi molto brevi lo è ancora di più. Questo per quanto riguarda i tatuaggi. Quando noi andiamo invece ad affrontare il problema delle lesioni pigmentate benigne, noi con un laser a picosecondi riusciamo a lavorare con delle fluenze, con delle potenze che sono circa un terzo rispetto al laser a nanosecondi. Quindi noi lavoriamo con un terzo delle fluenze che si adoperano con la tecnologia precedente. Quindi un terzo della fluenza vuol dire meno dolore, meno disagio, tempi di guarigione più accelerati e quindi meno discomfort per il paziente. E questo è molto ben accettato dai pazienti, perché chiaramente poter guarire in meno giorni, poter avere meno disagio, meno effetti collaterali, sicuramente rende il trattamento più facilmente accettabile. Con la tecnologia a picco questo è possibile, perché si lavora con fluenze decisamente minori rispetto alle fluenze adoperate con la tecnologia a nano. E più l'impulso è più breve, più si riesce ad operare fluenze ancora più piccole, più basse. Sì, il peak away, secondo me, non bisogna indenderlo come un laser per tatuaggi. Certo, è un laser per tatuaggi e dà dei risultati spettacolari e su questo non c'è nessun dubbio. Però sia col manipolo zoom, che noi possiamo trattare anche le lesioni pigmentate e fare anche procedure di skin rejuvenation, ma soprattutto col manipolo resolve, ha rivoluzionato l'impiego del picco. Il manipolo resolve io lo uso tantissimo e più della metà dei miei pazienti poi alla fine fanno dei trattamenti di skin rejuvenation per migliorare la texture, il tono cutaneo, i pori dilattati, le cicatrici da acne, il melasma e quindi per cui non è non solo tattoo assolutamente. Tra l'altro l'utilizzo di questo manipolo con frazionamento olografico e quindi l'utilizzo del resolve consente di trattare questi pazienti con un disagio molto contenuto, un po' di rossore che in giornata va via, i pazienti si possono truccare fin da subito, per cui non perdono giornate di lavoro perché non hanno un downtime che si ha con i laser ablattivi, con croste che durano settimane. È un trattamento che si può eseguire in qualsiasi periodo dell'anno, ci si può truccare fin da subito, per cui è molto ben gradito. Io ho ottenuto anche dei buoni risultati anche nelle smagliature bianche. Io le smagliature per esempio le tratto col dye laser, però le smagliature rosse, ecco le smagliature bianche fino a qualche anno fa avevo dei problemi e con il resolve mi sto trovando molto bene. Quindi melasma, skin rejuvenation, migliorare il tono cutaneo, pori dilattati, smagliature bianche e qui è tutt'altro che tattoo. Non sono tattoo ma sono trattamenti di dermatologia, medicina estetica e di skin rejuvenation, assolutamente. Grazie a tutti.